Musica Ciao ragazzi, ben tornati in questo nuovo video di minecraft In questa nuova serie chiamata Void Unbound In compagnia di Sorrel Power Cosa? Ah, ciao, ciao a tutti Saluta, saluta per bene Ciao a tutti Questa mappa mi è stata consigliata da Charlie Moon Che mi ha detto, ti piace Skyblock? Ti piace far fare le moda a Surry? Sì, bene, andiamo a fare questa mappa Va bene Sei un pezzo di latrina sporco, ok? Perché? Allora, come vedete ragazzi, sta mappa è strafiena di macchinari Noi dobbiamo iniziare a raccogliere Come vedete, cioè come fanno a vederlo? Eh, quando muori ti fa vedere tutti i macchinari intorno Zitto se non sai le cose Però dobbiamo costruire delle cose allucinanti Io sinceramente non so dove mettere le mani Però Surry ha detto che è capace E ha già fatto una roba simile E quindi la farà Sì, però E allora, che cazzo sta a fare? Sta qua a registrar Io sono il tuo cameraman Fammi prendere il blocco sopra Così allora, leviamo completamente Questo qua Posso trasformarla tutta la legna? Ti, te la do tutta così te la gestisci te Eccoci Più che altro, spero che Mi chiede la responsabilità Perché così, perché altrimenti facciamo due crafting table Due stick Cioè insomma Fai in modo No Aspetta un corno perché se non ci dà nessun saffing No, 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 no Non piazzare i blocchi Sei pazzo No, no, no Perché sprechi il legno? È tutto qua sotto Vedi? Ok Non speccare il legno Mi hai fatto paura Perché? Perché mi hai detto Stavo dicendo perché se non usciva un saffing Bisognava ricaricare la mappa Eh lo so Buttacelo Piantalo subito Che qui non siamo nella tua serie Quindi qui crescono per fortuna Eh vabbè E qua mi piace prendere la induzione Quindi spaccare a mano Dammela Ma come una cesta qui? Cioè Se questa cesta come faceva? E per il skybook aveva una cesta Vabbè scusa Intanto raccogliamo tutta questa roba Poi probabilmente con la cobblestone Si può formare un qualcosa Ti è caduta la cobblestone Comunque Non lo so neanche io Cioè Attento non scavarti sotto Sì c'è c'è il blocco Sicuro? Insomma è finto Vabbè lo vedo Basta sporgermi un po' Lo capisco se c'è il blocco Perché stai facendo fare Dicò a me però Eh sei tu che hai piccone Sì Se vuoi io piazzo la terra Dividiamo i lavori Adesso lo faccio io Dopo farei tu Ma se ci fosse una cesta dentro Oddio C'è anche un piccione Ah no un pipistrello Piccione Non ho fatto niente È stato un pipistrello Guarda C'è anche della legna sopra Ok C'è il lava bucket Water bucket Un sapling Quindi non ci serviva manco a noi Che faccio prendo tutto Dei semini Dei biscotti No lasciala qua Lasciala qua No portiamocela su Perché La cesta è qua Perché devi spostarla su Oddio guarda come cade tutto ora Ma fa a cadere tutto Ho già preso Ah no Pensavo di avessi lavato Se mai aspetta Facciamo così Allora Vai a farti un piccone Un piccone di pietra Anzi Ti sei rubato Ti sei ripreso tutto Fatti due Fatti due picconi Mentre io spacco qui Eh fammi la scheda Per ritornare su Non hai materiali No Eh cazzo Non so se la cobblestone Ce ne forniranno ancora A parte si possiamo fare Il cobblestone generator Abbiamo cobblestone generator Ma perché sei fissato Con sta cobblestone Non lo so Perché in skyblock Era sempre un problema Fammi la scala Fattela Ti ho dato i blocchi Sfaticato che Questa non te ne do l'altro Eh i biscotti Eh col cazzo Che ti mangi sempre Sono miei quelli Mi spiace Sì Fa una canna Fasta che ti faccio cadere Ogni volta Un infarto di cuore Mi fai venire Di cuoio Di cuore Non l'abbai visto Il video del nemesis Un infarto Di cuore C'è un problema Di alberelli Che luce È come che luce La luce La luce della luna Sì Ti stavo per buttare di sotto Perché ti muovi sempre A mostro di cane Allora posso mettere Non ti stavo colpendo Posso mettere delle cose Per terra Ti sto per dire una cosa Questa crafting table Rimarrà qui per sempre Sarà l'emblema della serie Sarà la crafting table volante Va bene Ci sto Idea copiatissima Dalla mia serie Della molto Però va bene Lo stesso Sono sul tuo canale Bene Adesso Ok Ora Prendi il tuo secchio Perché bisogna fare Il cobblestone generator Ok Che semplicissimo Allora Sì Io creo La piattaforma Per poterlo fare In tutta tranquillità Cosa stai facendo Ti aiuto Ma la piattaforma era quella Quella era la piattaforma Sì Mettevi la lava da una parte L'acqua dall'altra Ma Dammi 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 Perché non mi fido A farlo fare a te Allora aspetta Aspetta Facciamo le cose Con ordine Va bene Visto che la serie È al primo episodio Non vorrei fare Dei fail allucinanti Cioè da adesso Facciamo così Allora Spostati Poi comunque Aspetta Un momento di silenzio Ascolta mio fratello Quello che sono al pianoforte Non lo sento Mi dispiace Non lo sentirei Poi della webcam Lo senti Allora Spostati Ma cosa stai facendo Ah Continua Acqua infinita Acqua infinita Così Non dovrebbero esserci problemi E infatti Ok Dovrebbe andare bene No no Basta far così Vado io Vado io Vai tu No no Bravo Mamma mia Odio Batti il 5 Come facciamo Aspetta Aspetta Non ricordo L'ho già battuto Batti Vai sulla tua Sinistra 3 2 1 No V'ha rifatto 3 2 1 Ok Perfetto Ottimo lavoro Su real powering Ma quando fu stato più un calzo Aspetta C'è la colonna No no Basta far così Basta far così Levati 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 Alzati Scherzavo Ecco E sotto E sotto niente Non continuerà più Oh Se io abbiamo la coppia Sto generatore Ormai Oh Capi Nel mondo Aspetta Ah vuoi chiuderla anche sotto Sì ovvio Vado a chiuderlo Vai Ti chiudo Vai Ti chiudo l'acqua Non chiudere l'acqua Pazzo Maniaco Ok Ci sono Comunque a parte ste cose Ti volevo informare Che in questo pacchetto Che non è un pacchetto Questo è Minecraft Vanilla Però in questo Minecraft Vanilla C'è una cosa fighissica Che si chiama Cobblestone Generator Automatico Lo sai? No Lo sai? No Perché se noi prendiamo Aspetta Ma bisogna vedere come cazzo si fa Se noi prendiamo 73 pezzi di cobblestone Un secchio di lava E io ne ho già 18 Sì siamo a metà dell'opera Più o meno Ma in fatto non è la metà di 73 Sì sì ma Te non sei laureato in ragioneria matematica Quindi è Senta un po' Con 73 pezzi di cobblestone Un secchio d'acqua Un secchio di lava Possiamo fare Signore e signori Indovinate un po' Un cobblestone generator automatico Te ci credi? E cosa si va a fare scusa? Bisogna creare una specie di fornace gigante Comunque te lo dico chiaro E tutto Sto già odiando sto cobblestone generator Che porca troia Mi brucia tutti i pezzi Non è che ti li brucia Sì guarda in alto È qua Cosa? Uno è qua L'altro è là Basta non ci sono Guarda Sono ben 19 pezzi Intanto mettiamo le cose qua dentro Tu non te ne sei accorto Ma possiamo fare altre cose Tipo Quanta legna hai? Abbiamo poca legna Sai che forse Bisognerebbe spostare queste berelli Perché sono d'intralcio Alla bellissima e simpaticissima L'immortale crafting table Il volante Che cazzo sta fa? Ah i semi Ma non c'abbiamo il bombeal Ci metteranno i secoli Non siamo nella tua serie Cresceranno qua prima o poi Eppure te c'hai ragione Quanta coppia se l'abbiamo Metti tutta la coppia su un chiave Nella cesta Metti il slapping Piantalo Dove? Piantala Ah Vecino alla lava Allora il problema è se prende fuoco Dici tu Ok ma se prende fuoco vuol dire che nasce Se nasce noi siamo contenti Quindi qual è il problema? Non lo so sinceramente È la sua propria di qualcosa Bisogna arrivare a 73 Scavo io Quindi abbiamo 3 alberelli in produzione Suri che spacca la legna Io ne ho 46 Tu? 7 Vai Coincidenze? Vai così Non credo Vai Sgopa Sgopa Dammi 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 Stai transo Si che ci pensa Zio Suvele 1 2 3 4 5 2 3 4 5 Vai Mamma mia Ok La collaborazione E il primo è andato Boom Poi bisogna lasciare 2 buchi nel mezzo Quindi così E riempire tutto il resto Tappa tutto Tappa Tappa Bisogna mettere dentro lava e acqua Da una parte la lava e dall'altra l'acqua Ok Fatto Ok Bisogna prendere uno stick Uno stick Si Metterlo nel nono slot dell'inventario Guarda te lo do Cosa? Allora metterlo nel nono slot dell'inventario L'ultimo adesso È l'ultimo Si si Ce l'ho Ora Vedi qualcosa? Vedi uno stand là sopra? In realtà no Ehm Sicuro? Si Ora mettiti nel blocco qui centrale Prova a stare il più vicino possibile al centro E impugna lo stick Attempting to complete blueprint Cos'è? Ti ho detto Aspè io mi levo che si può accaduto Cobblestone generator Perché non ti avevo detto? Oddio è bellissimo E guarda sbucca la cobblestone Non ci posso credere Che figata Che bellissima questa cosa Bravo Suri Bravo È bellissimo Cioè tipo se stai fk 20 minuti fai due stack Se ne facciamo un altro Potremo Però non abbiamo più lava Cazzo è vero Ma non ti preoccupare Che la lava ci sarebbe solo per questo Che poi abbiamo anche Dammi un pezzo di cobblestone Tieni Guarda abbiamo anche una cosa bellissima Un inceneditore Non lo buttare Capita Ragazzi Io direi che questo primo Episodio Della void unbound È terminato Se vi è piaciuto Spolliciate Condividete Cercheremo di portarvene Almeno È comparso un gatto Il gatto? Dov'è? Miau Miau Dove vai? Sulla scrivania Mi sembra giusto Mi sembra giusto l'una No no sul back Ragazzi Saluto Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Condividete Seguite al canale Nel prossimo video Quando stai preso Rie è tutto Anche da luna Ciao Fai conto che questa immagine Webcam è bellissima C'è il gatto che mi ha usato Per salire in cima Alla poltrona Cioè Sono diventato Una scala umana